Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video svuota la spesa che è un format che vi piace parecchio devo ripromettermi di portarvelo più spesso questa volta siamo andati a fare la spesa a Lidl ma visto che non sempre riesco a trovare tutto 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 sono passata anche al Conad per prendere le cose che non ho trovato a Lidl ma sono veramente pochissime cose comprate al Conad e il resto che vedrete è tutto completamente Lidl se mi seguite su Instagram sapete quanto amo sperimentare con colazioni, pranzi e cene non faccio nessuna dieta, semplicemente mi piace mangiare sano quindi vi consiglio di seguirci su Instagram, su TikTok ovviamente se non siete iscritti al canale recuperate attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video e vi dico, spoiler, che nelle prossime settimane il citofono nuovo dicevamo prima dell'interruzione che vi stavo dando uno spoiler nelle prossime settimane usciranno dei video super interessanti su come organizzarsi la settimana se non si ha tempo e si vuole mangiare sano perché tante volte mangiamo non sano per una questione di tempo e vi faccio vedere come organizzo io la settimana ma anche vi faccio un po' un recap di tutte le colazioni che faccio settimanalmente per non annoiarmi eccetera 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 non vi sto qui a spoilerarvi troppo detto questo vi lascio alle clip della spesa eccoci qui, siamo appena arrivati queste sono le quattro buste se vedete bene ci sono anche delle patatine che non vi farò vedere perché le utilizzeremo stasera visto che abbiamo i nostri amici a cena e ovviamente poi vi faccio vedere tutto il resto comunque abbiamo preso le classiche quelle alla paprika e queste a Lidl che sono pazzesche allora parto con la parte freezer così poi sistemo tutto e mi dedico completamente all'unboxing e abbiamo preso dei filetti di salmone in realtà ce li porta mia madre solitamente li compra mia madre giù e poi li portiamo su congelandoli che sono ovviamente sicuramente molto più buoni e poi ho preso il filetto di merluzzo vi svelo una cosa io non sono in grado di comprare il pesce fresco e spinarlo cioè proprio non riesco e appena vedo una spina o la becco in bocca poi mi passa la fame sì, ho un problema spinaci in foglie e bietoline tricolore non le ho mai provate queste qui quindi erano nuove a Lidl non le avevo mai trovate e funghi champignon preferiamo prendere questi qui piuttosto quelli in barattolo li abbiamo scoperti da circa qualche mese e compriamo sempre gli stessi buonissimi questi qui tutto questo invece è il reparto frigo che non entra in inquadratura se sentite dei rumori in sottofondo c'è Manel che sta facendo i panetti della pizza per stasera se non avete visto il video ve lo lascio sotto nell'info box comunque allora ho preso 4 iceberg che è l'insalata che piace di più a Manel ah voglio precisare che tutta questa spesa che vedete è una spesa per due settimane cioè non è che facciamo una spesa settimanale così ampia poi i datterini che ci piacciono tanto ho preso 3 pezzi purtroppo non li vendono sfusi ecco quindi devo portarmi a casa tutta sta plastica poi zucchine anche queste ci piacciono poco si vede e cetrioli stesso discorso uva senza semi le melanzane 2 perché solitamente le faccio con i legumi e sono buonissime le patate dolci da abbinare a qualche cena se non le avete mai provate provatele perché sono pazzesche ho preso anche le patate normali queste qui in busta poi due avocado o due avocado boh vabbè comunque c'era la promozione venivano pochissimo e quindi ne ho presi due carote e poi i miei immancabili mirtilli per chi non lo sapesse io ho una malattia per i mirtilli e quindi ne compro sempre tantissimi questa volta c'era in promo quello grande quindi abbiamo preso questo qui anche se i mirtilli sono veramente piccoli cioè non mette neanche a fuoco ma sono piccolissimi non rende ah sì così sì e come vedete non sono super grandi vabbè comunque finendo il reparto verdura frutta e verdura abbiamo preso due buste di rucola io amo follemente la rucola tanto poi passiamo al reparto formaggi se mi segui su instagram sicuramente saprai che ho un'ossessione per lui e quindi quando li trovo in promozione alla Lidl stavano 90 centesimi ho presi due io amo il formaggino mio lo metto all'interno della minestra c'è della minestrina faccio pasta e formaggino lo metto sul pane ovunque ovunque se fosse per me vivrei anche soltanto di formaggino mio e di formaggio in generale poi abbiamo preso due pacchi di formaggio due buste il grana padano in scaglie da mettere sulle mie poche poche quelle cose che mi faccio di riso e mischia mischia francesco si direbbe da me poi lo schir che è tipo una filadelfia però ha diverse proteine rispetto alla filadelfia e poi buonissimo mi piace tantissimo di sapore però è molto personale poi hanno ampliato il reparto bio biorganic del Lidl e ho trovato tantissime cose tra cui questi qui che sono dei dessert al latte di mandorla che amo troppo cioè io amo il latte di mandorla vi faccio vedere i valori nutrizionali se metti a fuoco gentilmente ok ecco qui allora per 100 grammi abbiamo 57 calorie 2,1 di grassi e bla 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 per chi fosse interessato questi sono anche gli ingredienti all'interno e sempre del reparto bioorganic ho trovato questi gnocchi integrali che non avevo mai provato e quindi ho detto mmm mi piacciono e li ho presi poi non so credo che ci farò gli gnocchi con gli spinaci e la ricotta perché ho preso anche la ricotta che non può mai mancare poi ho preso gli straccetti di petto di pollo di petto di pollo sì perché erano in promo però io la carne non l'acquisto qui a Parma chi mi segue da un po' sa che tutto il rifornimento della mia carne me la fa mia suocera perché ha il centro carni a Roma accanto casa e quindi mi prende lì tutta la carne poi due sfoglie di pasta sfoglia cioè due sfoglie di pasta sfoglia vabbè ciao due rotoli di pasta sfoglia che fanno sempre comodo all'interno del frigo soprattutto per la cena quando arriviamo tardi ecco fai questa in 20 minuti avete fatto la cena dal reparto vegano ho preso i burger vegetali con i funghi che ho provato l'ultima volta e sono buonissimi ne ho presi due perché con uno non ci saziamo né io né Manuel quindi due poi sedar che non può mancare dentro il mio frigo quando facciamo gli hamburger quelli veri non questi qui poi formaggio alla greca che sarebbe la feta il petto di tacchino arrosto così che solitamente facciamo a cubetti all'interno di un primo di un primo piatto stesso discorso per quanto riguarda il cotto a cubetti e poi tutto il reparto dei yogurt ho preso questi qua dolci bianchi semplici gli ho avuto greco ne ho presi tre hummus di ceci è la mia droga amo tantissimo di solito ci faccio le piadine con questo i pomodorini è droga buonissimo provate provate ricotta le ciliegine di mozzarella anche queste le metto nei primi freddi che faccio magari la sera prima per il giorno dopo perché non ho sempre tempo di cucinare caldo e quindi tutto questo è reparto frigo ora vi faccio vedere il reparto dispensa allora io direi di partire dal riso preso il parboiled non so come si pronuncia sapete che faccio tantissime gaffe e poi il riso basmati per non mangiare sempre lui comunque solitamente li alterniamo tutto quello che vedete alla Lidl tranne poi vi dico quello che non ho preso la Lidl allora pastina che avevo completamente terminato io amo da morire le stelline e i risoni quindi ho preso questi due alla Lidl sempre alla Lidl sono rimasta scioccata infatti è una novità queste qui che sono praticamente tipo delle patatine di cocco io amo il cocco e ne ho prese due sempre della linea bio organic abbiamo preso poi abbiamo fatto rifornimento di frutta secca noci anacardi e mandorle in realtà c'era la promozione XXL su tutto solo che Manel mangia principalmente le mandorle io non ci vado molto dietro alla frutta secca si la mangio ma non è che impazzisco quindi alla fine ho preferito prendere noci anacardi piccoli tra le fricolette e mandorle XXL alla Conad invece ho preso il riso soffiato che purtroppo alla Lidl non si trova e ci faccio le colazioni se mi seguite su Instagram o anche qui sul canale sicuramente avete già visto qualcosina sempre alla Conad i semi di sesamo e i semi di chia poi piselli in scatola e anche ceci questi qui alla Conad questi qui a Lidl poi pane di segale l'unico pane che mangiamo anche se non andiamo molto dietro al pane perché preferiamo quello fresco però appunto visto che non abbiamo il tempo di uscire ogni giorno e comprare il fresco prendiamo questo qui di sesamo e vabbè ciao di segale poi albume questo qui preso alla Conad ma c'è anche alla Lidl solo che tantissime volte arrivo alla Lidl e finisce quindi mi anticipo lo prendo alla Conad poi ho preso il brodo granulare di Manzo raga da quando ho scoperto questo qui anziché delle come si chiamano i cubettini completamente un altro sapore completamente un altro sapore non giudicatemi non ho sempre il tempo di fare il brodo a casa da sola ecco già mi immagino sotto i commenti devi fare da sola il brodo sì tante volte lo faccio ma non sempre anzi la maggior parte delle volte no poi latte bevanda scusate di mandorla e di cocco e riso questo qui è senza zuccheri e la utilizzo cioè le utilizzo tutte e tre per cuocere il porridge e non mettere il classico latte in alternativa utilizzo quello parzialmente scremato poi una super novità la Lidl hanno fatto il succo al melograno bio senza aggiunta di zuccheri se mi conoscete e mi seguite io acquisto sempre quello alla Lidl sempre della stessa linea bio organic al mirtillo e ne ho già tantissimo nel frigo quindi ho detto vabbè non lo ricompro poi mi avvicino allo stand e avevamo fatto questo al melograno ho detto vabbè lo acquisto e non vedo l'ora di provarlo domani mattina poi sempre per la mattina o comunque per merenda ho preso due tisane questo qui in realtà è un tè nero aromatizzato alla pesca ed è tipo la terza volta che lo acquisto lo finisco subito perché ne bevo tantissimo mi piace veramente tanto è questa qui della sogni d'oro che ho visto su instagram ed ero curiosa di provare pistacchio mandorla con scorza di limone sempre alla conad queste due perché alla Lidl non si trovano è sempre alla conad farina integrale d'avena per fare i miei tortini magici la mattina e lei la truvia che anche questa purtroppo non si trova alla Lidl Lidl si metti anche queste cose non mi fai fare centomila giri in tutti i negozi possibili immaginabili questa era tutta la nostra spesa fateci sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate mi raccomando se non siete iscritti recuperate attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video vi aspettiamo anche su instagram su tiktok mando un bacio fortissimo e ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi vai ciao ragazze speciale sei